Musica Mentre il governatore Michele Emiliano apre i 5 stelle per un ipotetico governo di responsabilità, il centro-sinistra batte il territorio per sostenere le candidature. Il doppio appuntamento di Lucere Sansevero con le azzarone Massimo Russo e Rosario Cusmai fa il paio con l'incontro a Foggia presso il Florio in Fiera, dove la formazione PD e civici rilancia uno schema utile anche per le prossime consultazioni elettorali a partire, secondo Leo Di Gioia, proprio dalle amministrative. Sicuramente il voto ha anche una valenza amministrativa. Il giudizio, quando anche ci sono le politiche, lo si dà su un'intera classe dirigente, soprattutto se questa classe dirigente ripropone persone vicine, ripropone dei riferimenti riconducibili anche al governo del comune. Chi oggi è con Leo Di Gioia sarà anche alle amministrative con Leo Di Gioia? Sicuramente quelli che ci stanno dando una mano sono quelli che hanno già iniziato da tempo un percorso con noi. Quindi confido che siano la base sulla quale costruire le liste per le comunali, confido che siano quelli che più di tutti si esporranno in prima persona per richiedere un cambiamento in città. Ma nessuno di noi può scordare che il cuore rimane a Foggia. Questo cuore oggi ci chiama ad un impegno forte che parte con le politiche e che poi arriverà alle amministrative e di tutta evidenza che dovremo fare dei passi per ampliare la condivisione di queste idee. Questo modello può essere ripetuto anche in altre competizioni elettorali. Io penso di sì. Noi governiamo in regione con il principale partito che è il nostro, il Partito Democratico, accanto a movimenti civici che sono presenti in tutta la Puglia. Io credo che questo sia uno schema che ci ha fatto vincere in regione, con cui abbiamo vinto la provincia di Foggia e con cui governiamo anche in alcuni comuni. Poi ci sono realtà locali in cui il Partito Democratico decide di andare da solo senza il sostegno del movimento civico. Io sostengo anche quelle impostazioni. Insomma, siamo al giro di Boa. Il bilancio chiaramente è la fase di ascolto, che non è una fase di ascolto di campagna elettorale, ma una fase di ascolto sui territori che dura da anni. Le problematiche del territorio che conosciamo vanno risolte. Il settore che più colpisce i Monti Dauni chiaramente sono le infrastrutture, sono le strade, sono la messa in sicurezza delle scuole. Noi abbiamo una provincia a vocazione agroalimentare da sempre. Tutte le prove che sono state fatte in questi 60 anni di creare delle zone industriali, pensate all'Enichem e poi alla reindustrializzazione dell'ex Enichem, che fine affatto non hanno portato risultati. C'è entusiasmo attorno ad un progetto che ci vede insieme in una coalizione ben salda e unita tra di noi. Questo modello è già un modello esistente e consolidato sul territorio. Oggi si consolida questa alleanza e soprattutto è chiaro a tutti che non è più un'alleanza, e non lo è mai stato di fatto, semplicemente elettorale, ma è un'alleanza politica che ci vede insieme sui temi, sui contenuti e soprattutto sulle prossime tornate elettorali, ma innanzitutto su un grande progetto, forse anche più ambizioso, ma meritevole di massima attenzione, che è quella di Foggia Città. Ci stiamo volendo tutti innanzitutto in accordo, in simbiosi, ci stiamo un po' dividendo i compiti, stiamo girando parecchio, stiamo incontrando molte persone, quindi sta andando bene. L'elenco dei problemi non lo devo fare io, sono sotto gli occhi di tutti. Noi stiamo cercando con difficoltà di trovare qualche soluzione, qualche proposta di legge, qualche cosa concreta. La Presidente si prevede molta incertezza per il dopovoto, c'è stata anche questa apertura ai 5 Stelle, che sta molto chiacchierata. In realtà io da anni sostengo che il Partito Democratico è una grande energia di questo Paese, in particolare della Puglia, se mi permettete. Il centro-sinistra sta facendo uno sforzo grandissimo per tenere insieme la comunità pugliese, le liste civiche, anche quei componenti, diciamo così, che sono stati trascurati, maltrattati, ignorati dalle destre. Però non si può ignorare il rapporto con il Movimento 5 Stelle, che evidentemente costituisce un'energia di cittadini comuni che si attivano e che ovviamente meritano una risposta. I sondaggi vi danno in svantaggio, è solo colpa di Renzi? La campagna elettorale ovviamente la fa Renzi, l'immagine di Renzi è quella, è molto complicata da gestire, questo lo sanno tutti, però io invito tutti i pugliesi a dimenticarsi che esiste Renzi e ricordarsi che esiste il Partito Democratico della Puglia che da tanti anni lavora, ha cambiato l'immagine di questa terra, è presente ovunque, abbiamo i nostri difetti, intendiamoci, non è che siamo tutti perfetti, anche noi abbiamo qualcuno che probabilmente potrebbe fare meglio il suo lavoro, però ce la stiamo mettendo tutta e quindi votare per il centro-sinistra e per il PD significa anche salvaguardare il lavoro di questi anni. Incontro questa mattina nel Comitato di Via Napoli di Forza Italia a Foggia sul tema dalla parte giusta per il mezzogiorno. L'attenzione dei dirigenti, degli iscritti e dei simpatizzanti presenti, tutta per Michela Di Donna, candidata alla Camera nel Collegio Uninominale Foggia Gargano, Raffaele Di Mauro, segretario provinciale del partito e candidato nel listino plurinominale alla Camera, Luigi Miranda, presidente del Consiglio Comunale di Foggia, Aldo Patriciello, deputato al Parlamento europeo e per la sua collega Barbara Matera, che abbiamo intervistato. La capitanata vista da Bruxelles? La capitanata vista da Bruxelles è una capitanata che deve muoversi, si deve migliorare, si deve adeguare ai cambiamenti che avvengono ormai in tutta Europa e soprattutto quello che è importante, quello che io dico, è creare una filiera importantissima tra consiglieri regionali, parlamentari alla Camera e parlamentari europei. E non a caso la lungimiranza di Michela Di Donna, che ha sempre visto nel rapporto con un parlamentare europeo, ossia con me, un punto di forza insieme a quello che già lei ha nella sua mente e nel suo programma, perché la capitanata si deve circondare di tante figure che devono saper rappresentare le stanze di questo territorio nelle varie assise. Una bellissima campagna elettorale, perché come ogni campagna elettorale mi dà l'occasione di essere ancora di più in mezzo alla gente, perché la mia caratteristica è questa, io sono sempre a disposizione degli altri, mi piace incontrare gente, mi piace essere presente nei luoghi di aggregazione. Rispetto a quella delle regionali, come la sta vivendo? Più emozionante, perché questa volta rappresento il centrodestra, il centrodestra unito, per me questo è un motivo di grande orgoglio e ne sento anche l'importanza, perché essere punto di convergenza di tutti quelli che sono gli ideali, le convinzioni che sostengono i partiti del centrodestra, mi dà davvero tanta gioia, è la mia ricarica e ogni volta è pensare di dover rappresentare il centrodestra in questo momento storico. Le polemiche iniziali legate alla sua candidatura sono alle spalle per lei? Assolutamente, ma io non vedo polemiche, io vedo un centrodestra che governa il comune di Foggia è che in questa battaglia, in questa campagna elettorale per tornare a governare il paese, l'Italia, è sceso in campo così come è giusto che sia, quindi non ne capisco proprio il senso. Dalla mia c'ho una lunga militanza politica che mi dà forza, coraggio, entusiasmo e ancora di più voglia di vincere. La mafia operante nella provincia di Foggia presenta delle caratteristiche diverse da tutte le altre, basate su una solida struttura interna e sul familismo mafioso, tipico dell'andrangheta, ed una non comune capacità di programmare e attuare strategie criminali tra diversi gruppi operanti sul territorio, ma anche con sodalizi mafiosi campani e calabresi. È un passo della relazione finale della Commissione parlamentare antimafia che riguarda la provincia di Foggia. Secondo la Commissione, la solidità strutturale di questi gruppi appare derivare da una impenetrabilità propria del contesto sociale in cui operano questi gruppi, caratterizzato da arretratrezza culturale, omerta e legalità diffusa, condizioni che tuttavia non hanno impedito l'applicazione e lo svolgimento delle attività criminali di modelli di modernità e flessibilità propri di una mafia degli affari. Attenzione della Commissione soprattutto per la zona di Vieste. Il territorio, scrive infatti la Commissione, funestato da attività estorsive finalizzate all'imposizione della guardiania abusiva, particolarmente vantaggiosa per la vocazione turistica dell'economia locale. Il susseguirsi di atti di intimidazione e soprusi di vario genere rischia di strozzare l'imprenditoria in una zona che costituisce sicuramente un polo di attrazione per gli affari e in cui la circolazione di rilevanti capitali è legata anche alla realizzazione e alla gestione di strutture ricettive. Strutture queste utilizzate spesso al presidio delle coste, attività strumentali, e al controllo del traffico di stupefacenti con la vicina Albania, che costituisce per un verso l'affare più lucroso e per l'altro il trade union tra le diverse organizzazioni criminali operanti sul territorio della provincia foggiana. Secondo la Commissione, la mafia incapitanata si è voluta e prolificata anche perché chi doveva generare l'allarme è rimasto vittima del classico e disastroso pregiudizio secondo cui qui la mafia non esiste. E prevalsa, ipotizza ancora la Commissione, in un'inclinazione collettiva al quieto vivere. C'è voluto l'assassino feroce dei due contadini innocenti, testimoni dell'ennesimo delitto nell'agosto del 2017 con il conseguente arrivo in città del Ministro dell'Interno perché, dopo anni di basso profilo, la questione foggiana diventasse questione primaria. Fondo stradale sconnesso, scarsa illuminazione, isola spartitraffico non segnalata e praticamente invisibile agli occhi degli automobilisti. La zona, quella di Corso del Mezzogiorno, via Cerignola, in direzione dell'Hotel degli Atleti. Una strada intensamente trafficata a tutte le ore. L'abbiamo percorsa di sera, su segnalazione dei telespettatori perché, come denunciano, è dopo il tramonto che il tratto diventa impercorribile. Quando vado a lavoro, prima delle 5 del mattino, ci raccontano, la strada è percorsa da mezzi pesanti, non è illuminata, non si vedono le buche, né i pochi cartelli stradali. La corsia stretta fa il resto, si rischia la vita ogni giorno. Quel tratto di strada è stato infatti spesso teatro di incidenti, anche mortali, ma ben poco è stato fatto per la messa in sicurezza della strada. 44 persone denunciate e oltre 4 milioni di articoli sequestrati. E l'esito di un blitz messo a segno dalla Guardia di Finanza in tutto il territorio regionale è finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione dell'abusivismo commerciale ed altre correlate forme di legalità. 134 gli interventi effettuati, nel corso dei quali sono stati sequestrati oltre 4 milioni di articoli con la denuncia di 44 persone all'autorità giudiziaria. I controlli hanno evidenziato un'incidenza maggiore di irregolarità per alcune tipologie di prodotti. Un milione e mezzo di articoli nel settore dei beni di consumo ed oltre un milione di articoli di elettronica, risultati contraffatti e ritenuti dannosi per la sicurezza dei consumatori e quindi sequestrati. In particolare i sequesti sono stati messi a segno in esercizi commerciali gestiti dai cittadini rumeni. Un'operazione messa a segno grazie alla portale SIAC, il sistema informativo anti-contraffazione, progettato e cofinanziato dalla Commissione Europea ed affidato dal Ministero dell'Interno proprio alla Guardia di Finanza. Controlli che dimostrano però che sono ancora tanti i cittadini che acquistano materiali contraffati nonostante sappiano la pericolosità di alcuni di questi prodotti. Torna a Foggia i fiori blu la rassegna di incontri con i libri e le voci del miglior panorama letterario e giornalistico italiano ideata e organizzata dalla giornalista Alessandra Benvenuto con la collaborazione della libreria Ubic a conversare con l'autrice nella suggestiva cornice di tenuta a fuia nera l'editore Alessandro La Terza ospite del primo appuntamento la scrittrice piacentina Sandra Petrignani per raccontare la sua ultima opera La Corsara un ritratto inedito e minuzioso di Natalia Ginzburg. Come nasce la sua passione e il suo interesse per la Ginzburg? Io credo che un po' per tutte noi l'interesse per Natalia Ginzburg viene dalle madri L'essico familiare è uno di quei libri che ci hanno passato le madri e vedo che anche per le più giovani è così Allora è un interesse che affonda proprio nella prima giovinezza e che poi si è rafforzato quando l'ho conosciuta e l'ho seguita nel suo lavoro perché poi l'è morta nel 91 quindi ho avuto abbastanza tempo per seguirla in diretta diciamo. Perché La Corsara? La Corsara è un titolo fortemente voluto perché mi interessava mettere in primo piano l'aspetto battagliero di Natalia Ginzburg che Corsara è stata anche prima di Pasolini Pasolini gli scritti corsari ha cominciato a scriverli per il Corriere della Sera nel 75 ma Natalia Ginzburg già collaborava da tre anni e con questo piglio polemico, controcorrente e suscitando spesso delle reazioni molto forti. Anche perché era una donna che si muoveva in un universo maschile ha avuto a che fare con tanti grandi intellettuali di quel tempo. Questo tempo invece che cosa offre? Il nostro? Sì. Il nostro? È una domanda dura perché purtroppo il nostro tempo sembra offrire solo confusione e un'aggressività terribile, fortissima ma anche che si avverte non solo nell'ambiente politico ma proprio per la strada e quindi e soprattutto e questo me l'hanno fatto notare dei giovani che sono venuti alle prime presentazioni del libro manca la figura del maestro mancano i grandi maestri manca una figura di eroe come Leone Ginzburg ma manca anche un Giulio Inaudi cioè qualcuno che non parliamo di Cesare Pavese ma insomma qualcuno che con la sua vita con la sua passione e con la sua coerenza come poi fu Natalia Ginzburg ecco ti indica la strada. Quanto può essere appunto attuale il messaggio di una donna vissuta in un periodo così particolare come il Novecento oggi? Io credo che sia molto contemporanea Natalia Ginzburg più di altri scrittori anche suoi coevi insomma coevi a lei il Novecento in realtà è ieri a noi con la rapidità dei tempi di oggi sembra lontanissimo però impressionante come certe sue dichiarazioni certe sue prese di posizioni sembrano di oggi ecco quell'insegnamento che manca potrebbe venire da lei ecco ci sono queste figure femminili secondo me non sono abbastanza apprezzate nella nostra società contemporaneità nella nostra tradizione Una ricerca scientificamente condotta e raccolta in 130 pagine che raccontano le città e la loro crescita sotto più punti di vista si tratta dei modelli di sviluppo delle città il libro scritto da Pellegrino Iannelli Maurizio Granatiero e Giuseppe La Salandra è presentato alla presenza del Presidente del Consiglio Comune di Foggia Luigi Miranda e dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura Leonardo Di Gioia il libro analizza lo studio realizzato dal Centro Studio di Formazione Statistica dell'Istituto Toniolo di Manfredonia sulla qualità della vita in Italia la qualità della vita è stato evidenziato nell'incontro sta diventando sempre più un'annosa questione dei nostri tempi ed indica in generale il benessere di una collettività di persone numerosi sono gli indicatori economici e sociali dell'ambiente urbano che misurano la qualità della vita tra cui fattori politici fattori economici sociali e geografici scopo primario dello studio è stato quello di individuare con un metodo puramente matematico la tendenza a crescere decrescere o stagnare che hanno le province italiane la situazione che è sempre più andata delinandosi nella penisola hanno rimarcato anche Miranda Di Gioia introducendo il libro è la differenza di vita tra il nord il centro il sud e le isole è ormai consuetudine che in tutti i tipi di ricerca di indagini socio-economiche condotte a vari livelli nel paese emergano delle differenze sostanziali e nel sud la qualità della vita in quasi tutti i settori analizzati è inferiore a quella del nord questa sera su Rai 1 in prima visione andrà in onda non c'è più religione commedia diretta da Luca Miniero con Claudio Bisio Alessandro Gassman Angela Finocchiaro tra i protagonisti il film è stato girato tra Manfredonia Monte Sant'Angelo e le isole Tramiti in otto settimane tra giugno e luglio del 2016 grazie anche al lavoro di Pierluigi del Carmine location manager unico foggiano nell'ufficio produzione della Puglia Field Commission la Field Commission l'ha segnalato chi era nel location manager delle varie zone della Puglia è entrato in contatto con me e subito dopo diciamo le proposte fotografiche abbiamo fatto un giro di tutta la provincia di Foggia perché poi naturalmente il paese ideale del film è ambientato su un'isola e in un paese che si chiama Porto Buio quindi dovevamo cercare un'isola è un paese che facesse al caso suo insomma hanno avuto un'accoglienza ottima addirittura a Monte Sant'Angelo ci hanno organizzato una festa sorpresa una sera tutto il paese a disposizione con musica popolare è stata una bella esperienza anche Alessandro Gassman che è molto social ha postato 20.000 immagini dalle isole Tramiti in particolare naturalmente sono diventi affascinati dal paradiso che sono le isole Tramiti ed è stato la domenica che era la nostra giornata libera abbiamo approfittato anche per fare delle passeggiate lungo sentieri quindi siamo andati in foresta Umbra siamo andati a mangiare al Trabucco siamo stati anche agli eremi di Pulsano che a lui sono piaciuti tantissimo infatti ha postato un po' di foto anche degli eremi cosa manca a questo territorio per essere venduto come si deve ultimamente c'è una tendenza a girare anche dalle nostre parti non tutti sanno per esempio che Wonder Woman che è un film americano della Warner Bros hanno girato a Castel del Monte però la spiaggia con il green screen è stata usata la spiaggia di Vignanotica noi abbiamo fatto addirittura i sovraluoghi con 60 persone venute dall'Inghilterra per quel film poi per questioni logistiche non sono riusciti a girare ma hanno usato come sfondo comunque Vignanotica a noi non manca nulla perché potremmo ambientare qualsiasi sceleggiatura sul territorio nella provincia di Foggia forse siamo un po' più deboli sui Monti Dauni che sono altrettanto belli come il Gargano però mancano un po' di strutture ricettive quindi ospitare 80 persone diventa complicato Lo spettacolo musicale dedicato a Tito Schipa firmato dai fratelli Leccesi Francesco e Matteo Spedicato torna in scena con il teatro pubblico pugliese Tito il cantante piccoletto andrà in scena al teatro Giordano di Foggia domenica 25 febbraio alle ore 18 e 30 per il ciclo teatro con le famiglie il musical racconta in maniera dinamica ed accattivante con fantasia e brio la vita e la carriera di Tito Schipa rivelando curiosi dettagli della sua infanzia o aneddoti del suo percorso professionale si tratta di un'opera originale con testi e musica interamente scritti dai maestri Matteo e Francesco Spedicato con arrangiamenti e orchestrazioni del maestro Eliseo Castrignanò per la regia di Giovanni Guarino è pensata per un pubblico trasversale di tutte le età con un'attenzione particolare a bambini e ragazzi che durante lo spettacolo vengono invitati a prendere parte allo show e chiamati a cantare insieme ai protagonisti sulla scena sul palco un cast di giovani interpreti tra cui 16 musicisti dell'orchestra l'Orfeo Ensemble formazione giovanile interamente composta da talenti del territorio salentino scelti tramite bando e audizioni Tito il cantante piccoletto è infatti più in generale il progetto punta di diamante di stregati dalla musica il programma di didattica e teatro musicale più grande del sud per numero di partecipanti sovvenzionato dal MIUR che riunisce scuole biblioteche e istituzioni aderenti e che mira ad avvicinare i bambini e i ragazzi in età scolare alla conoscenza della musica e soprattutto della tradizione belcantistica italiana grazie a tutti grazie a tutti